L'abbiamo già vista ma ve la vado a ripresentare, giudice di questo raggruppamento è la collega Oretta Zilli. Labrador Retriever. Golden Retriever. Nova Scozia. Cao de Agua Portoghese. Cocker Americano. Abbiamo terminato. Tutti i migliori soggetti delle razze da compagnia. Raggruppamento nono si presentino nel pre-ring. Per favore. Noi. Avvaini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In secondo posto una razza d'acqua molto conosciuta, il Labrador. Il vincitore di questo raggruppamento è il Golden Retriever. Tutti i vincitori del migliore di razza del gruppo Nono, compagnia, si presentino nel pre-ring. Vado un attimo per le foto di Rito.